Salve a tutti. Dopo l'intervento del Ministero dell'Istruzione che in autotutela ha annullato qualche domanda presente nelle batterie dei quiz del concorso ordinario a Cattedre, tra cui ricordiamo quella riguardante l'articolo 34 della Costituzione che era palesemente errata, arrivano già le prime pronunce del Tribunale Amministrativo che censura l'operato dell'amministrazione evidenziando altri errori nelle batterie delle prove scritte. In effetti sono state numerose le segnalazioni di errori e anomalie da parte dei candidati inoltrate al Ministero dell'Istruzione e inoltrate anche alla nostra redazione ed effettivamente sembra che siano molte altre le domande incriminate su diverse classi di concorso. Effettivamente la Commissione Nazionale nominata dal Ministero dell'Istruzione così come autorizzato dal Decreto Ministeriale del 9 novembre aveva il compito di predisporre l'archivio nazionale dei quesiti su cui poi sarebbero state estratte le domande da sottoporre ai candidati per la prova scritta del concorso. Tuttavia, come dicevamo, in molte classi di concorso sono stati riscontrati quesiti tecnicamente errati, quesiti che andavano oltre i quadri di riferimento per la specifica classe di concorso o andavano oltre il programma d'esame previsto dall'allegato al bando di concorso o che presentavano più risposte corrette o addirittura che nessuna delle risposte proposte era da considerarsi esatta. Se già sono numerosi i ricorsi che sono partiti al Tribunale Amministrativo per censurare la batteria dei quesiti sicuramente ne arriveranno molti altri perché, ripeto, sono tantissime le segnalazioni di anomalie e sicuramente qualche altra pronuncia da parte del TAR non si farà attendere. Vedremo come si evolverà la vicenda. Arrivederci a tutti. Grazie.